Posso... posso di uomo? No 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 no, venite venite, venite venite, 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 venite... Ok? Vai 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 vai, siiii! Li ho grabati tutti! Ma chi ti ha preso la pentagill? Io io córrego... 8 secondi, la possiamo prendere ragazzi! Abbiamo finito, abbiamo finito, basta. Ah la penda, la penda che lo dice lui Faccio plasher e grab No, perché scrivi Don Pinti Perché scrivi Don Pinti Vuoi farlo innamorarla? Stai rendendo?